Dovreste tutti sapere che questo non è un canale per chi si lamenta dei prezzi delle carte. Soprattutto questi tipi di video non sono per chi si lamenta dei prezzi delle carte. È giunto il momento di scendere giù nelle fogne per dare un occhio al mazzo più bello della storia di Magic. Questa è una deck touch del mio rodi midollo full foil, ma soprattutto questo è un Quanto costa il mio mazzo? E scherzo ragazzi, l'Omega è ben ritrovati qui su HMC Magic Masters. Era tantissimo che non vi portavo questa categoria di video, quindi sono felicissimo di questa cosa. Anche perché questo è stato forse, dico forse perché vatti a ricordare, il primo mazzo monocolore Tematico che ho deciso di fare, la passione che ho per i ratti in Magic da anni mi ha portato a fare questa creazione E finalmente l'ho finito, l'ho fatto full foil. E ci tengo a farvi notare che rodi midollo ha la bustina dei My Little Pony. Bello. Andiamo quindi a vedere ragazzi questo super mazzo, naturalmente vi darò qualche indicazione sul funzionamento, sulle carte più importanti, ma molto alla veloce, ci concentriamo per lo più sul prezzo, sul pimp. Prima di partire vi invito, naturalmente se non siete ancora iscritti al nostro canale e se vi piace Magic the Gathering, a iscrivervi subito per tante 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 belle cose su questo simpaticissimo e fantastico gioco. Vi invito naturalmente subito a mettere un bel like per supportarci nel caso il video vi dovesse piacere. Facciamo arrivare questo video a 50 like, ce la facciamo? Perché no andate anche a dare un'occhiata alla nostra pagina Facebook e se vi va di supportare il canale con una donazione ve ne siamo molto grati. Rodi Midollo, signore e signori abbiamo oggi un mazzo a tema ratti. Topi. Bello, bello, bello. Innanzitutto partiamo con questa pedina topo di Trono Veldrain, so che non è un ratto però è troppo troppo caruccia, me l'ha regalata la mia amica Martina qualche tempo fa, quindi ciao ciao ciao. Abbiamo poi questa bellissima pedina ratto con Pikachu sopra che non so dire se è imbarazzante o se è la cosa più bella del mondo, non lo so, decidete un po' voi nei commenti. E partiamo con il comandante, ovvero Rodi Midollo. Costò 5 per un 2-3, tutti i ratti hanno paura. Tappiamo, sacrifichiamo un ratto e mettiamo in gioco X, pedine, ratto 1-1 nere, dove X è il numero di ratti che controlliamo. Guardate quanto è bella questa foil di Kamigawa. Direi di partire subito con le terre, andiamo con le terre base, signore e signori. Ho qualche palude che sì, credo valga la pena analizzare, anche se non troppe. Una standard showdown, un'altra versione di standard showdown. Questa bella bella di Teros, ne ho messa una per mazzo. Tre paludi foil di Battle for Zendikar. Una di Odissea e lo so che le confondo sempre con Mirage. In tutti quanto costa il mio mazzo faccio questo errore questa volta, non mi sono confuso. Abbiamo poi una palude dell'espansione, scherzo, non mi ricordo più qual è delle tre. E andiamo a chiudere con, ragazzi vi lascio il link in descrizione nel caso non lo abbiate visto, una delle Godzilla Land, la palude. Guardate che figata. Dieci paludi di espansioni abbastanza randomiche foil. Facciamo che le buttiamo dentro per 50 centesimi l'una e la chiudiamo lì. Ma andiamo avanti, andiamo avanti signori, con una carta già un pochettino più costosa, ovvero questa bellissima Cavern of Souls e con questa Nyctos Shrine to Nyx che è stato uno degli ultimi acquisti. Ok, qui so che qualcuno mi contesterà, ma ragazzi non mi importa. Wasteland. Questa Wasteland non è foil ma è artworkata e guardate che artwork. Ho comprato questa carta qualche tempo fa, a dire il vero tanto tempo fa, e voglio utilizzarla in uno dei miei mazzi Pimp nonostante non sia foil. È troppo bella, non so che prezzo metterò, ma mi piace. Ditemi voi cosa ne pensate, ditemi voi se nel caso dovessi sostituirla con cosa? Ho la Wasteland Expedition, effettivamente. Potrei metterci quella. Ho anche la Street Mine, ma non avevo sbatti di cambiarle. E andiamo avanti con qualche terra che non dà mana colorato. Prima di tutte, immancabile la Torre del Reliquiario. Abbiamo poi Buried, ruin molto interessante per recuperare qualche artefatto dal cimitero e abbiamo un artefatto che va in combo con Rodimidollo, quindi ci sta. Myriad Landscape, l'avete vista praticamente in ogni mio mazzo. Abbiamo poi una pazzia di Vest Valle che si flippa e diventa questo demone indistruttibile ed è una Giappo Foil della pre-release. Ce ne sono davvero poche in giro di questa, infatti l'avevo pagata un buon prezzettino, quindi penso che starà qualcosa. Bruli Camp, ragazzi. Sì, probabilmente molti di voi non conoscono questa landa. non è neanche una landa da due soldi ed è una landa fatta appositamente per ratti, ragni o squigliattoli o insetti. Yes, this card is real. Abbiamo poi la Brughiera, Brulla. Qua abbiamo un po' di Utility Lens. Questa la andiamo a ciclare perché scopo una carta addizionale. Ifrit, Dead Lens. Questa non mi ricordavo nemmeno di averla inserita, no? Tanto devo farci capire. È abbastanza interessante perché comunque ha un'abilità secondaria. Mette un meno uno, meno uno. Ci sta, può venire utile quando non si sa cosa fare. Abbiamo una Quetrino Morente che fa sacrificare una creatura ad un avversario bersaglio e una Memorial Tu Folli che ci fa riprendere una carta creatura dal cimitero. Siamo a qualcosa di un po' più particolare, di un po' più grosso e di un po' più utile. Queste cose fanno rampare, fanno avere tantissimo mana. Partiamo con Fortezza della Kabbalah che ci dà un mana nero per ogni palude base che controlliamo. Crypta di Agadem. Guardate che bella la foilatura di questa carta, ma in generale tutte le carte di Warwake Zendikar sono sensazionali foil. Che ci aggiunge un mana nero per ogni creatura nel nostro cimitero, quindi dopo una vratta può essere parecchio forte. Ovviamente non può mancare in un mono nero la Urborg. Aquitrino di Bojuka, altra carta che costa come una madonna di Warwake. Naturalmente quando entra rimuoviamo un cimitero bersaglio. È comune, è forte, è giocata e foil sta infinito perché c'è di un'edizione sola. E andiamo a chiudere con una Kabbalt Coffers DCI. Non l'avevo nemmeno pagata tanto questa alla fine. Non so se è salita o scesa, lo scoprirò in montaggio. Via con le lande, passiamo agli incantesimi. Partiamo con Peste. Allora, questa carta non è né essenziale né forte in Commander. In generale, oddio, non è una brutta carta, ma non è tutta questa cosa in Commander. Tuttavia sono affezionatissimo a questa carta, ma proprio tanto affezionato. Quindi questa bellissima versione di Giappo merita di stare qua dentro. Immancabile, Necropotence, che credo sia giusto definire una delle P9 del Commander. Ora, non è questa la situazione, ma in determinati mazzi combo, quando entra Necropotence, peschiamo praticamente tutto e abbiamo vinto. Quindi ci siamo capiti. Noi abbiamo questa bella versione del From the Vault Easy Easy. Arena di Phyrexia, carta naturalmente immancabile che ci fa pescare una volta in più. E andiamo a chiudere con Contamination. Non esistono versioni foil anche di questa carta, purtroppo. Essenzialmente dice che tutte le terre producono un mana nero, a prescindere dal colore, a prescindere dalla quantità di mana che produrrebbero normalmente, producono un mana nero. Al nostro mantenimento possiamo sacrificare una creatura o non sacrificarla, nel caso non sacrificassimo una creatura dobbiamo purtroppo sacrificare questo incantesimo. E tanta tanta roba questa carta, è un bella bocchino, gli avversari la vorranno rimuovere. E noi abbiamo comunque tanti topi per mantenerla in campo il più facilmente possibile. Via gli incantesimi e dentro questi poveri piccoli quattro istantanei. Partiamo con Sons of the Damned, aggiungi un mana nero per ogni carta creatura nel nostro cimitero. E hey, ne giochiamo tante e hey, i nostri avversari ce le toglieranno tutte, sicuro? E con questa andiamo a risolvere. Disprezzo di Vraska che a costo 4 ci esilia un planeswalker o una creatura ci fa guadagnare due vite. Ascesa dell'armata terrificante, parlavamo prima di Vratte, questa è un'altra soluzione, l'abbiamo sbustata nell'ultimo Twerkabox che vi invito ad andare a vedere nel caso non l'abbiate ancora fatto. E andiamo a chiudere con questo simpaticissimo tutore vampirico foil full art di Commander Legends. Via gli instant, dentro gli artefatti. Allora, non ho dei problemi di questo mazzo che ci sono tante carte che ci fanno perdere davvero tante vite. È un mazzo mono nero, naturalmente ha questo problema. Quindi ho voluto inserire questo monoper di collare del basilisco. Una delle chiusure più intelligenti di questo mazzo è andare di aggro. È una carta che a costo 1 da Lifelink ed Etach con equipaggiare 2 ci sta. Medaglione d'ambra nera, purtroppo non esistono versioni foil di questa carta. Bastone del morso spinato. Guardate quanto è bella l'art, guardate quanto è bella la foilatura. Questa è la carta di cui vi parlavo prima. Lei va in combo con Rodimidollo e crea un loop infinito di tap e stap per andare a creare ratti potenzialmente infiniti. Quanti ne vogliamo. È una bella carta, a me è una chiusura molto rischiosa. Difficilmente la usiamo perché è facilmente prevedibile, però c'è. Monumento a Bontu per andare a ridurre il costo dei nostri bei topolini. E comunque drena anche delle vite, non è per nulla male. Urza Incubator. Questa dovrebbe stare a qualcosina. Pietra straimpellante. Naturalmente giochiamo un mazzo a ratti. Naturalmente ci sono dentro i ratti spietati. Con questa carta in campo praticamente giriamo tutti i ratti spietati del mazzo. Monumento di Eldrazi. Perché se tanti ratti grossi grossi già non fanno paura, con un ulteriore volare e indistruttibile la fanno il doppio. E se non bastano dei ratti giganteschi con volare e indistruttibile andiamo ancora a potenziarli con Ricordo di Acroma. Che dice che le creature che controlliamo hanno volare, attacco improvviso, cautela, travolgere rapidità, protezione dal rosso e dal nero. Sono dei megatank, altro che razion delle nutrie, no? E andiamo a chiudere con un'altra di quelle carte che in commander ti fa abbastanza vincere, ovvero Cittadella di Bolas, perché lanciare carte a zero è sempre carino. Ragazzi, siamo giunti alle sorcery, che sono già un po' più degli istantanei. Partiamo con Feed the Swarm, che è una delle ultime aggiunte tech che ho fatto a questo mazzo. Spacchiamo una creatura o un incantesimo, che un avversario controlla. È l'unica carta nera che spacca incantesimi, quindi può rivelarsi molto interessante qui dentro. Toxic de la Jefoyle Full Art di Double Master. Damnation in questa edizione promo, pull art, stupenda, signore e signore. Ne ho tipo una quindicina, ma sono troppo belle. Pantano ribollente, bubbling, mack e light hide del nero. Purtroppo è a sorcery e non a instant. Fino a fine turno ogni qualvolta un giocatore tappa una palude per prendere mana, aggiungo un banana nero addizionale. Estorsione temporale perché sì, anche in mono nero e anche in un mazzoratti andiamo a fare dei turni extra. In questo caso i nostri avversari possono negarci di fare questo turno extra, ma uno di loro deve pagare metà delle proprie vite. Demonic Tutor Foil Ultimate Master. Se voi effettivamente potreste anche dire sì, ma ormai potevi prenderlo Foil Full Art. Cos'è sta barbonata? E mi scuso ragazzi, mi scuso. C'era quello e ho preso quello. E andiamo a chiudere con due tech, due carte, che oggettivamente io ritengo delle chiusure, perché quando andiamo a farle con tantissimo mana, dopo una bubbling mack, dopo una cabal coffers ultrapompata, insomma andiamo, sì, se non a vincere quasi. Dissanguare. Ogni avversario perde X vite e noi guadagniamo altrettanti punti vita persi da tutti gli avversari sommati. Quindi tanta tanta roba. Torment of Hellfire. Quando questa carta scende in commander, io non so che reazione hanno i vostri amici, ma quando la calo io con tanto mana, la gioco dai tempi di Wingraise, il primo video che abbiamo rimesso sul canale, non lo so, tipo, impazziscono. Sta carta crea il panico ed effettivamente con tanto mana fanno anche bene ad entrare in panico. Ok, signori e signori, siamo al repartino creature. Naturalmente abbiamo un po' di ratti spietati. 19, guardate che bel malloppone, ratti spietati promo. Uh, qua in editing sarà un po' più bello e un po' più facile. Abbiamo poi, perché sapete benissimo che io sono stronzo, altri due ratti spietati. Uno di M25 ha un'art alternativa, quindi ho ritenuto essenziale aggiungerlo. E uno con art uguale a questi qua, ma di M11, perché ripeto, io sono stronzo. Andiamo, ragazzi, a vedere tutti gli altri ratti, poi ci chiudiamo con i non ratti e ci sono cose parecchio interessanti. Iniziamo con Nezumi Grave Robber, una carta flippabile. Queste carte non vengono più prodotte dal 1845, ma erano una figata di Kamigawa. Questo in particolare è anche una bella bomba, visto che entra con due, è un 2-1, paghiamo due, rinuoviamo una carta. Se non ci sono carte, lo giriamo e diventa un topolone leggendario mago, che pagando 5 ci fa rianimare una creatura da un cimitero generale. Sciame di ratti. E mi piace un casino l'art di questa carta non edizione, con forza pari al numero di ratti che controlliamo. Colonia di ratti. Non molto utile in questo mazzo, potevo mettere un Relentless in più, ma volevo variare. Ed eccoci a una delle mie... wow! Delle mie ciliegine sulla torta, questa è una delle carte di cui sono più fiero. Packrat, giappo, foil, firmato. Questa è una delle carte più forti della storia di Magic, secondo il mio modesto parere. È un ratto che diventa grosso, che si sdoppia e... è bello! È un topolino piccolo e puccioso. Ratti della pestilenza. Non esistono versioni foil di questa carta, ma guardate che art carina, carinuccia. Bello, 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 bello. E anche lui può diventare parecchio grosso. Crit, razz, costo 3. Facciamo X danni a tutto e tutti. Taglia gole. Questa è un'altra delle carte che ho preso relativamente da poco. Innanzitutto è una bella topolona, mezza porno, mezza nuda. Vabbè, ok, magari c'è qualcuno che mi piacciono i topi nudi. Ma vabbè. 2-2 costo 5 con Ninjutsu a 3. Quindi può entrare molto più velocemente. Quando infligge danno da combattimento a un giocatore, distruggiamo una creatura a bersaglio non nera controllata da quel giocatore. Semplicemente una bomba. E parlando di Ninjutsu e di belle topolone, abbiamo in Kai's Servant of Oni. Una delle carte forse ratti più famose. Costo 6-5-4. Ninjutsu 5. Pagando 2 la possiamo rigenerare. Quando fa danno da combattimento a un giocatore, possiamo rianimare una creatura. Arriviamo ragazzi a tutte le utility, alle creature non ratto, che sono comunque tante. Ho messo delle cose che sì, vanno a genio con i ratti. Alcune cose che sono semplicemente forti in mono nero. Andiamole a vedere, non ne parliamo troppo. Il freio della colonia che mette altri ratti e soprattutto gli da minacciare. Opposition Agent, questa carta è oggettivamente forte. Sono tanto tanto felice di averla sbustata nel Twerka Box. Andiamo a controllare un tutor avversario o una fecciata avversaria prendendoci la carta a flash. Direi che cosa buona e giusta nostro overfonte di salvezza. Vargot, vargot, vargot. Va, 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 va. Va Cusky, Cusky, le Cusky. Anche lui sbustato nell'ultimo Twerka Box. 2-3 a questo tratto coletale. E mi piace questa cosa del poter fare tutore a instant quando attacca. Perché? Perché su questa carta c'è scritto rimuovi. Mi spreca una rimozione prima che io attacco. Può rivelarsi una distrazione per un avversario oppure farci cercare una carta che ci serve. Questa, ragazzi, è l'ultima carta che ho comprato. Letteralmente l'ultima perché mi sono dimenticato della sua esistenza, ok? Ho comprato una Nyctos, ho detto wow, ho finito ratti? No. Crypt Ghast. Questa bella bomba con estorsione a costo 4-2-2 raddoppia il mana prodotto dalle nostre paludi. Quindi anche qui è una carta abbastanza essenziale in mono nero. Soprattutto se nel nostro reparto chiusura ci sono carte appunto come Exanguinate o Torment. Mercante grigio di Asfodelo. Immancabile in un mazzo del genere. Visto e considerato che i ratti hanno quasi tutti, almeno i Relentless, un doppio nero nel costo di mana, andiamo a rampare la devozione e andiamo a far perdere tantissimi punti vita. Ogre Slumlord, costo 5-3-3, Giappo Foil da Detach e ogni volta che una creatura non pedina muore crea un ratto 1-1. E sulla stessa linea abbiamo Rat Catcher, costo 6-4-4 Paura ed è il tutore dei ratti. All'inizio del nostro mantenimento possiamo passare il rassegno al Grimorio per cercare una carta ratto e mettercela in mano. Tanta roba. Crick, figlio di Yagmoth. Non esistono versioni Foil, spero conosciate questa carta. Questa carta è forte. Troppo forte. Sbroccata. Eeeh, è bella. E siamo arrivati in chiusura, siamo arrivati in chiusura con un'altra carta che mi piace tantissimo, non è essenziale, ma mi piace tantissimo, l'ho già detto, mi piace tantissimo. Patrono dei Nezumi, costo 7 per un 6-6, il gigantone, il bestione del mazzo questo. Lui ha Obolo del Ratto, un'abilità molto interessante che ci permette di giocarlo in qualsiasi momento, quindi a velocità, anche istantaneo se vogliamo. Sacrificando un Ratto e pagando la differenza tra i costi di mana, calcolando anche il colore. Quindi può venire giù molto velocemente, può venire giù con un costo ridotto. Inoltre, ogni volta che un permanente viene messo nel cimitero di un avversario, quel giocatore perde un punto vita. Quindi anche interessante, carino e intelligente, oltre che essere molto molto grosso. Molto bene, signore e signori, io ve lo faccio esaminare ancora una volta. Guardate, guardate che figata, che spettacolo di mazzo. Non sarà un top mazzo, non sarà competitivo, ditemi quello che volete. Questo è un mazzo bello, questo è un mazzo divertente, questo è il mazzo. Quindi, Omega, alla fine della fiera, noi siamo qui per un obiettivo. Quanto hai speso? Quanto costa il mio mazzo? Questo ammasso di topi di fogna raggiunge la cifra di... Molto bene ragazzi, io spero naturalmente che questo video vi sia piaciuto, nel caso fatecelo sapere qui sotto con un bel like. Non ho più palida idea di quale sarà il prossimo quanto costa il mio mazzo, probabilmente Progenitus, perché è monobianco, ho qualche idea ma non l'ho ancora realizzato, mentre invece Progenitus sto andando avanti, con calma. Io vi invito di nuovo a iscrivervi se non l'avete ancora fatto e a visitare la nostra pagina Facebook per tutte le news, le novità sul canale e non. Vi ringrazio per qualsiasi tipo di supporto, soprattutto naturalmente per le donazioni che ci fanno tanto comodo per aprire nuovi prodotti e implementare, aumentare la qualità del canale. E detto questo, ciao a tutti da Omega, grazie e alla prossima! Grazie a tutti!